Come acquistare prodotti sul sito DeFiU tramite Ultima Exchanger Se vuoi acquistare un pacchetto sul sito DeFiU puoi utilizzare lo scambiatore interno Ultima Exchanger Il processo di pagamento richiederà solo pochi minuti In questa guida ti mostreremo l'intero processo di pagamento del prodotto tramite EA Exchanger Apri il sito dell'Exchanger E il sito DeFiU Apri il sito dell'Exchanger e il sito DeFiU contemporaneamente in due schede del tuo browser Sul sito dell'Exchanger clicca sul pulsante Payout Seleziona Ultima e clicca su Next Step Sul sito web DeFiU seleziona il pacchetto che desideri acquistare Seleziona Ultima come metodo di pagamento Accetta i termini e le condizioni selezionando la casella e clicca sul pulsante Purchase Si aprirà una finestra con l'indirizzo a cui devi inviare Ultima per il pagamento Copialo cliccando sull'icona di copia Vai al sito web dell'Exchanger Incolla l'indirizzo copiato nell'apposito campo Copia anche l'importo da pagare dalla pagina dell'ordine sul sito DeFiU e incollano nel campo sottostante Dopo aver compilato i campi clicca sul pulsante Transfer Ogni Payout avviene con la conferma a due fattori del tuo account Pertanto inserisci un passport monouso di Google Authenticator per confermare il Payout Dopodiché la tua richiesta di Payout verrà creata Attenzione, devi effettuare un Payout e il saldo dell'Exchange entro i primi due minuti dal momento della creazione dell'ordine pagamento In caso contrario l'ordine del pagamento scadrà Fatto! I token Ultima verranno trasferiti a breve sul tuo portafoglio specificato Torna al sito web di DeFiU Vedrai un messaggio sull'avvenuto pagamento del pacchetto Per qualsiasi domanda contate al servizio di assistenza e saremo lieti di aiutarti Ti auguriamo un buon lavoro!